Ci sono le teletamere Compegno e decoro, soprattutto Per quanto tempo? Finché è opportuno Non penso che sia più opportuno, sinceramente Eh no, è certo Marco A un passo dal possibile A un passo da te Paura di decidere Paura di me Contegno Sì, un pochino Contegno Io da quando sono arrivata a casa Ti ho pentato tutta la settimana Non mi ricordo Anche ieri, nonostante fosse arrabbiata con te Ero insomma io Ero insieme